Buongiorno e ben ritrovati per questo inizio di giornata in musica questa mattina perché siamo orgogliosi di avere con noi a ospite Cliff Britton che è il nuovo direttore artistico dell'orchestra di Padova e del Veneto a cui do subito il benvenuto e il buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno maestro, un arrivo in città che è stato voluto dagli stessi orchestrali, chi è di Padova lo sa, c'è stata una lunga vicenda che ha portato poi alla nomina di Cliff Britton come nuovo direttore artistico e questa pagina segna anche una speranza di rinascita per l'orchestra di Padova e del Veneto che è una delle orchestre italiane amate e che ha avuto una storia molto prestigiosa e che però in questo momento ha bisogno un pochino di essere rinfrescata. Intanto il benvenuto dell'orchestra e della città, maestro come è stato? Ma è andato benissimo, cioè io sono contentissimo, Padova è una bellissima città, è una nuova esperienza per me, infatti da certi punti di vista anche il lavoro in sé è una nuova esperienza, non è che non ho avuto a che fare con l'orchestra, ma ho avuto a che fare con l'orchestra Allora diamo un po' una infarinata al nostro pubblico che magari non frequenta la musica tutte le mattine, Cliff Britton è un grande pianista, nonostante parli un ottimo italiano è originario dell'Inghilterra, inglese e di solito abita a Firenze nella sua lunga esperienza musicale, si è distinto non solo come pianista ma anche come organizzatore di eventi tra cui alcuni hanno appunto portato a collaborazione con moltissime orchestre grandi e piccole è un progetto interessante anche per la partecipazione di privati ed è un po' quello che ci si aspetta anche per il rilancio dell'orchestra di Padova del Veneto dopo che è nata la fondazione che doveva un po' portare questa orchestra alla ribalta nazionale e internazionale, così non è stato che ricette pensa di poter applicare, maestro? Ma prima bisogna pensare dell'orchestra, questa è la cosa più importante dal punto di vista praticamente musicale, bisogna ridare all'orchestra, bisogna investire e non solo in termini di soldi bisogna investire nelle condizioni di lavoro che loro hanno la possibilità di crescere perché come musicisti, quanto un musicista può essere professionista? Eccezionale, ma non esiste un musicista che non continua a crescere e un'orchestra deve anche, anche se raggiunge livelli altissimi bisogna sempre trovare i modi di permettere questa crescita Ho letto che moltissimi studiano proprio le dinamiche dell'orchestra le dinamiche del dialogo all'interno dell'orchestra per poi applicarlo al dialogo che serve per creare strutture, società, organismi sostanzialmente quindi questo che lei dice del fatto di curare l'orchestra vedere il suo stato di salute, ricreare probabilmente quel dialogo che è la ricetta magica che rende poi bellissimo ascoltarla un'orchestra, è da lì che parte il lavoro Sì, ci sono così tante cose da dire anche diversi sono Abbiamo molto tempo, quindi possiamo andare uno alla volta Ma si potrebbe fare anche, non so quanto, certi elementi di tutto questo può interessare in quanto molto tecnico ma dal repertorio per esempio, dall'organico stesso cioè il repertorio vuol dire l'organico chiaramente che esige un certo organico questo orchestra, che era l'orchestra da camera di Padre del Veneto ora questo da camera È stato tolto dal nome, diciamo però l'organico è rimasto quello Più o meno, la base è quello invece l'orchestra ogni tanto per certi programmi chiaramente ha più aggiunti, cresce così Io direi che bisogna, sì, investire in questo nucleo Allo stesso tempo bisogna anche offrire ai musicisti stessi l'opportunità, come dicevo prima di crescere attraverso diversi repertori e così con musicisti che vengono, cioè direttori principalmente che vengono a lavorare con l'orchestra per aiutare l'orchestra di crescere anche dal loro punto di vista cioè con l'esperienza che hanno loro Quindi fare il contrario di quello che un po' succede qualche volta diciamo così, in cui magari arriva il grande direttore ma alla fine l'orchestra diventa un elemento a suo favore invece che essere un elemento di crescita Il rischio è sempre questo che un direttore o a volte ancora di più solisti che hanno bisogno di orchestre cercano orchestre con le quali fare quello che vogliono realizzare Invece la vera musica deve essere, diciamo, un'attività svolta con più generosità per dare, vuol dire avere anche il tempo di dare questo tocca a me di aumentare questo contatto sia quando c'è un lavoro specifico per un concetto cioè le prove per un concetto ma oltre quello, se troviamo qualcuno che va molto d'accordo con l'orchestra è importante che tornino Certo a lavorare per creare, diciamo, un lavoro per poter lavorare con più conseguenzialità questo è indispensabile Allora, la prossima domanda, forse, che mi farebbe è, allora, un direttore stabile? Eh sì, è stata una brutta esperienza da questo punto di vista ma insomma, in passato Ma è anche una bella esperienza con Peter Mag Peter Mag, sì, era stato un direttore, non proprio un direttore stabile è stato direttore di fatto dell'orchestra Ma è stata una figura di questo genere Assolutamente, io l'ho conosciuto, direttore Mag un personaggio indimenticabile nella storia della musica non solo dell'orchestra di Padova e del Veneto Ma è un discorso comunque che bisogna affrontare Ma non subito, perché ci sono direttori pochi, devo dire, ma sono direttori che sono specializzati quasi, non perché loro pensano di essere specializzati sono bravi a costruire, diciamo, orchestre cioè aiutare almeno orchestre di strutturarsi e sono questi che voglio invitare anche più di questi perché ognuno porta cose molto specifiche possono essere, diciamo, esperienze più verso gli archi piuttosto che i fiati, per esempio ma la prossima stagione che non posso anticipare Questo è un problema, però io prima di questa intervista ho avuto modo di scambiare due parole con il direttore e mi ha detto che lei ha già le idee molto chiare La stagione per il nostro pubblico bellissima tra l'altro che si è appena iniziata a Padova è stata ideata dal direttore artistico uscente Filippo Juvarra e adesso ovviamente il direttore può operare con un po' più di tranquillità per la prossima stagione Già si pensa alla prossima stagione vedremo che sorpresa Peccato che neanche una non ne può anticipare Neanche una ma principi sì, come stavo dicendo cioè di avere principalmente quattro direttori di questo genere che torneranno più volte Che bello Così spero in una stagione portando chiaramente ad una prossima perché è un lavoro ovviamente che deve andare avanti Comunque questa costruzione è di regalare il più possibile ai musicisti Lei so che anche dal punto di vista della sua formazione artistica ha seguito tutto un percorso che ci porta un po' anche nella musica romantica Franz Liszt E questa cosa si sentirà anche nella programmazione dell'orchestra? Io spero di no No, sarà una cosa diversa No, mi spiego meglio Nel senso che io credo nella quasi severità di approccio per quanto riguarda la musica dell'Ottocento Spesso e per secondo me troppi anni musicisti trattano la musica romantica cosiddetta per la sua emotività, per la sua libertà, queste cose qua ma non è assolutamente vero Cioè una grande esecuzione di musica romantica deve avere applicato una disciplina uguale a Bach Sì, o qualsiasi approccio più classico Dico Bach perché lì si sperimenta, diciamo così, la più rigorosa esperienza di varie orchestra del mondo che proprio per la filologia musicale ci sono caratterizzate Anche se stavo per un po' di polemica che da certi punti di vista Bach ci lascia più libertà che altre musiche in realtà ma insomma questo è un discorso lunghissimo a questa ora la mattina forse no No, 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 ma ci sarà senz'altro qualcuno che Bach lo frequenta e lo conosce io poi amo moltissimo le variazioni Goldberg, Glenn Gould mi piace moltissimo per cui per dire, penso che molti potranno capire le sue parole Anzi, la musica deve diventare parte della formazione di ognuno di noi Io sono fermamente convinta di questo perché ci fa crescere meglio come una bella opera d'arte, come un bel libro ascoltare un bel brano, sapere che cosa stiamo ascoltando ci aiuta a vivere meglio credo che anche questo sia un aspetto che nella storia dell'orchestra di Padua del Veneto è sempre stato molto importante il fatto di rapportarsi col pubblico, con i ragazzi, con i bambini e penso che questo continuerà anche con la sua direzione No, vorrei investire di più, più tempo, più idee perché con le scuole, con i ragazzi bisogna anche vedere che cosa veramente interessa cioè non tutti possono avere un'esperienza di suonare o qualcosa nella maggior parte, no ma spesso, secondo me, i musicisti un po' prendono certe cose per scontato cioè il mistero di un'orchestra cioè di come funziona un'orchestra è una cosa che un musicista dice ah ma è ovvio è normale non è così normale dirlo in termini molto, molto poveri ma come parte l'orchestra? uno fa un gesto quindi vorrei indirizzare questa esplorazione per i giovani più sulla funzionalità dell'orchestra e anche gli orchestrali abbiamo fatto di recente un evento e devo dire gli orchestrali erano geniali erano così aperti con questi bambini vicino a loro questo apre tantissime, tantissime opportunità ma c'è un progetto bellissimo che la Regione Veneto finanzia purtroppo soltanto per Verona che lo fanno con la fondazione lirica Arena di Verona e che porta i bambini a fare un'esperienza di lirica loro mettono in scena proprio l'Aida sostanzialmente o la Butterfly, quello che è e lo fanno in maniera molto seria e rigorosa e si divertono come matti questi bambini imparano moltissimo ad amare veramente la musica e a conoscerla nel senso in cui lei proprio esprimeva adesso sarebbe proprio tanto bello vedere anche a Padova in altre realtà venete una cosa di questo tipo assolutamente, sì 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 infatti anche con la lirica è molto bello creare forse non si fa tutto ma si può creare un sintesi ah sì certo di un'opera così eh sì eh sì solo per dare l'idea di quello che potrebbe essere lavorare in un'orchestra sostanzialmente sì 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 ascolti ma diciamo che lei la conosceva l'orchestra di Padova del Veneto aveva già avuto modo di collaborare qualche volta o è per lei il primo contatto? no 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 una volta tanti tanti anni fa quanti più o meno diciamo veramente non ero 15 anni fa 15 anni fa e poi l'orchestra certo l'ho sentito più volte è un'orchestra che devo dire che malgrado certi problemi più recenti la cosa che mi interessava molto è che certe qualità di suono eccetera le ho viste ancora non per dire che l'orchestra sta così male non è quello ma è come una persona che non è diciamo nel diciamo pieno della contentezza della felicità ma comunque la cosa importante è che ho sentito queste qualità ancora e secondo me c'è già questa base su quale costruire piuttosto che ti fare tutto e poi si ricomincia cioè grazie questo è meglio meglio evitare e non c'è bisogno comunque la ricostruzione è una è qualcosa da fare con con grande attenzione con a fare insieme ai musicisti cioè io non credo che potrei fare quello che vorrei fare in questi prossimi un, due, tre anni senza la collaborazione dei musicisti è fatto che gentilmente hanno mi hanno diciamo scelto proposto sono sono molto grato sono molto contento ma principalmente credo che è quella la premessa che può fare la differenza perché senza un accordo di come lavorare con i musicisti arrivederci ma è un'esperienza un po' particolare questa rifata ma anche da questo punto di vista il fatto che lei sia stato letteralmente invocato dall'orchestra che non sa a questo punto cosa potrà succedergli scherzo per una battuta penso che ci sia anche 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 bene è un'esperienza positiva soprattutto in un momento in cui abbiamo discusso per esempio moltissimo di quello che accadeva a Roma all'orchestra dove un grandissimo direttore se ne è andato sbattendo la porta e lasciando di fatto l'orchestra il suo destino purtroppo non positivo sostanzialmente Padova approva una via completamente diversa ed è una sfida importante infatti la mattinata si chiama sfida in musica sostanzialmente perché credo che tutto questo discorso che stiamo facendo abbia anche una ricaduta per la città per l'economia della città per la forza espressiva di una città dove la musica è importante la città è importante in questo momento di grande difficoltà specialmente come si sa in Italia è attraverso energia e attività è attraverso il fare che bisogna in realtà lei parlava di Roma un ente lirico chiaramente un esempio di come fare si trova a Venezia alla Fenice loro sono secondo me più virtuosi di tutti perché hanno fatto attraverso un enorme investimento verso produzione e noi dobbiamo fare la stessa cosa allora con questa energia l'orchestra può rappresentare anche la città e spero di trovare dei collegamenti diciamo tra altre attività che noi possiamo anche rappresentare è molto importante in questo momento ora si passa verso discorsi anche di sopravvivenza sopravvivenza sì no perché sappiamo che c'è sempre il problema del fondo dello spettacolo che ogni anno è un po' un'incognita per quel che riguarda i finanziamenti e poi c'è questo problema della fondazione che di fatto non è mai decollata fondazione vuol dire una cosa importante vuol dire che l'orchestra deve essere in grado di auto mantenersi sostanzialmente come ci si può fare è un discorso un po' noioso però è una delle cose più importanti che purtroppo bisogna fare no bisogna chiaramente rispettare le regole chiaramente non si dice di no a sovvenzioni pubbliche quando ci sono e bisogna lavorare molto per assicurare un futuro in quel riguardo allo stesso tempo poi bisogna aprire questo famoso discorso verso privati l'unica cosa che penso molto fortemente è giusto parlare di realtà private ma bisogna rispettare queste realtà non si può più perché il mondo non è più fatto così non si può andare da o imprenditori società varie banche eccetera a giustificare la richiesta di uno sostegno per il puro fatto che si tratta di cultura bisogna essere molto più sofisticati bisogna chiedere quali sono gli obiettivi di queste società mettiamo dove vogliono andare vogliono andare all'estero si può fare questa avventura insieme per esempio l'orchestra che spesso è una realtà culturale e continua ad essere molto giustificato questo approccio apre porte non c'è verso si va in Cina si va in America così apre porte per altri quindi è importante che collaboriamo in un modo capendo le esigenze l'uno dell'altro e a quel punto si può ragionare ma io sono molto nuovo quindi in questo momento sto cercando di mettermi in contatto con queste realtà del territorio quindi o fuori dal territorio perché io so che lei ha già fatto esperienza appunto con alcuni festival per quel che riguarda questo approccio ma si tratta di realtà diciamo a Padova chiaramente nel Veneto oppure si porta semmai l'estero verso il Veneto questo è un altro approccio quando è anche lì bisogna fare tante ricerche capire quali sono gli obiettivi semmai mettiamo sparo una banca americana che di nuovo guarda il nord est come come questa realtà molto come era almeno spero spero ancora si sarà speriamo appunto a questo proposito devo interromperlo un attimo perché abbiamo un piccolo break pubblicitario poi ritorniamo in due minuti e continuiamo l'argomento e vorrei anche parlare un po' di lei come musicista mi piacerebbe che anche il nostro pubblico la scoprisse un po' di più tra pochissimo ecco qui eccoci insieme questa mattina siamo onorati di avere con noi il nuovo direttore artistico dell'orchestra di Padove del Veneto Cliff Brayton musicista pianista molto noto e adesso appunto è importato in città per affrontare questa sfida di rilancio dell'orchestra di Padove del Veneto stavamo parlando di un aspetto determinante nel futuro di una qualsiasi attività che ha un suo aspetto imprenditoriale oltre che artistico cioè il fatto di rendere autosufficiente l'orchestra ovviamente si tratta di realtà che sono finanziate in parte anche dallo Stato però che devono sempre più affrancarsi da questo anche perché si taglia sempre e possibilmente il futuro abbiamo capito così il direttore Cliff Brayton auspicava un ritorno agli splendori del nord-est un ritorno che si fa anche attraverso iniziative come questa sì spero spero molto sarebbe una bellissima cosa si è già pentito di quello che ha detto no 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 quello che può fare l'orchestra in tutto questo è molto importante molto molto importante ecco l'affezione del pubblico anche è un ingrediente importante portare a questi concerti un pubblico anche giovane perché il problema del ricambio generazionale riguarda un po' le attività culturali classiche diciamo così dal teatro stabile all'orchestra di Padova ad altre formazioni anche questo a questo ha pensato? sì io con l'età che ho ho visto anni 70 80 90 in più paesi come affrontare questo questo tema che è un problema che non esiste solamente in Italia ovviamente certamente in America in Inghilterra in Francia tutti hanno cercato da lasciare non lo so la rosa sul posto a giochi a direttori che si vestono in certi modi vabbè questi sono abbastanza superficiali strategie strategie diciamo di immagine strategie così io penso comunque in un altro modo io penso che è la forza espressiva della musica cioè è una cosa che forse abbiamo anche un po' dimenticato il nostro mondo non è perfetto sappiamo questo artisticamente il mondo musicale è ad un alto livello diciamo di base ma interpretativamente la forza dell'esecuzione dovrebbe essere tale di cambiare la vita alla persona che ascolta ma cambiare radicalmente sorrido perché io so che lei dice queste parole perché ha sempre seguito anche gli orientamenti di Claudio Arrau che è un famosissimo musicista che diceva proprio la forza dell'espressione che cambia la vita delle persone e lui aveva rallentato l'esecuzione proprio per rendere ancora più percepibile questo aspetto non l'ho rallentato così in un modo pensato no ma col crescere col maturarsi è arrivato ad una 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 libertà disciplinata di esecuzione sì che aveva questa forza infatti era a volte criticato perché era quasi troppo era quasi troppo esigente io non capisco come un'esecuzione può essere troppo esigente se è fatto in un modo vero e giusto ma è vero quello che diceva lui era più carino comunque era casomai era più realista di me io ho detto che dovrebbe cambiare la vita tutti invece lui diceva a noi allievi lui diceva di andare sempre in palcoscenico sperando o con l'intenzione di cambiare la vita ad almeno una persona dentro che è bello che era molto bello sì molto bello sto pensando a me qualche volta quando guardo un concerto che penso ma cosa penseranno quelli che mi vedono lì così tutta messa magari penseranno questa cosa che sta dicendo lei che è quello che ci si aspetta di essere trasportati in un altro mondo in un altro pianeta di vivere quel momento come un'esperienza profonda anche spirituale da tanti punti di vista poi ovvio che se uno ascolta un tipo di musica magari è più facile che per altre cose magari ascoltando Strauss uno viene in mente invece un'esperienza di divertimento o cose di questo tipo dipende da quale Strauss Strauss viennese viennese sostanzialmente ed è bello ed è comunque bello insomma sia dal punto di vista della meditazione che dal punto di vista dell'allegria la musica dovrebbe sempre fare un pochino questo effetto la sua vita artistica come risentirà di questo impegno che si è preso perché lei ha detto non salirò sul paico con l'orchestra di Padova del Veneto perlomeno non per la prossima stagione no 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 neanche quello io penso che sia giusto perché l'orchestra deve avere il riflettore sull'orchestra l'orchestra ha fatto il sopporto per tantissimi musicisti che secondo me forse potevano dare indietro più all'orchestra e per quello infatti posso dire che forse vero criticato per questo ma la prossima stagione anche se ho detto che non dirò nulla ma comunque piccole cose forse dirò che la presenza di concerti con solisti sarà molto meno del solito perché voglio che l'orchestra abbia proprio il posto centrale come protagonista quindi io penso che è importante sembra un po' serio di dire che si tratta di conflitto di interessi ma secondo me è giusto in questo momento che sia così perché lo faccio perché ho pensato di fare questo lavoro forse un po' toccando quello che dicevo prima il nostro mondo musicale e parlo del mondo non in Italia soltanto secondo me non è del tutto in una salute no proprio cioè è molto efficace è molto è un po' una vetrina è una vetrina artistica per me è importante fare qualcosa che possa diciamo aprire questioni importanti su che cosa è la musica che cosa è proprio il nocciolo si dice in italiano il nocciolo del discorso della musica il nucleo insomma e portare questo fuori legando anche a quello che dicevo sulla forza di esecuzione forse espressiva della musica stessa quindi io ho pensato che io posso suonare fino a quando ho 200 anni e non importa come suono secondo me farà il giusto di differenza per il futuro della musica un un'orchestra così se si fa un lavoro se si riesce a fare un lavoro straordinario secondo me si può se posso dirlo forse è più polemica più polemica per porre queste questioni portare queste questioni anche in giro per il mondo vediamo vediamo un esempio solo di questa polemica no per me e ora forse suono un po' religioso quasi ma io credo molto nell'etica dell'arte l'etica della musica e forse è questo che ogni tanto non non si fa vedere tutto il tempo e vorrei concentrare tutto su questo che questo orchestra può diventare un esempio di qualcosa di quello che è la verità della musica a quel punto questo orchestra diventa veramente grande beh guardi abbiamo finito il tempo su queste frasi pensiamo che sia benaugurante per il futuro del suo lavoro e dell'orchestra di Padova del Veneto non vediamo l'ora di vedere la prossima stagione nel frattempo per tutti quelli che si sono incuriositi nel sito dell'orchestra di Padova del Veneto ci sono i calendari di quella attuale c'è sempre chi ha voglia di sentire buona musica può trovare pane per i suoi denti grazie maestro grazie e noi continuiamo tra pochissimo con i vigili del fuoco che sono nostri ospiti per parlare di prevenzione prevenzione d'autunno e quindi caldaie pericolo di monossido di carbonio ma anche il maltempo che li ha fatti lavorare non poco in questi giorni ci vediamo tra poco